buongiorno buongiorno a tutti buongiorno buone feste da Karim come avete passato la festa di Natale speriamo di sì speriamo che sia stato tutto bene ok vi faccio l'augurio ancora di buon Natale di buon Santo Stefano e buone feste ok allora le previsioni 10 all'otto serale da giocare oggi il 27 dicembre per tre colpi ok poi ci abbiamo l'otto eccoli qua il 10 all'otto serale 1 6 13 30 e poi il 49 54 69 82 ok e poi come solito si gioca tutti insieme oppure divisi solo con l'extra come solito come volete voi ok auguro a tutti buona vincita e poi quelli che si mi seguono sul giornale l'otto mio rimani sempre le stesse previsioni che sono già pubblicate fino al giorno fino al 9 gennaio per quelle ridicola in fanno il ponte fino al 9 gennaio ok in pausa e rimangono sempre quelle quelle del giornale l'otto mio sto parlando ok va bene niente questi sono quelle che sono usciti con i miei calcoli speriamo che che porta bene cosa vuoi dire avete visto anche sul sommiglio dei abbiamo fatto altre due ancora e poi vediamo se oggi pomeriggio riesco a fare un altro video per il milione dei ok perché non sono ancora pronte il lotto si è pronto adesso lo pubblico basta e grazie sempre di vostro commento e grazie di vostri saluti che mi salutate io leggo tutto e vuole dire qualcosa ma non mi viene in mente adesso non mi viene in mente speriamo che state bene e tanti sono ammalati con questa influenza auguro a tutte buone guarigioni e speriamo bene ok va bene dai ragazzi un gran saluto tra poco preparo anche e lotto da reggio cari un ambo su su bari napoli nazionali ok tra poco trovati nel canale youtube anche sui gruppi buona giornata a tutti buongiorno buongiorno a tutti buongiorno buone feste da karim come avete passato la festa di natale speriamo di sì speriamo di sì speriamo di sì state state di tutto bene ok ok io ti afforcio l'augurio ancora di buon natale di buon santo stefano e buone feste ok ok allora le previsioni 10 all'otto serale da giocare oggi il 27 dicembre per tre colpi ok poi ci abbiamo l'otto eccoli qua e poi il 10 all'otto serale 1 6 13 30 e poi il 49 54 69 82 ok e poi come solito si gioca tutti insieme oppure divisi solo con l'extra come solito come volete voi ok e auguro a tutti buona vincita e poi quelli che si mi seguono sul giornale l'otto mio rimani sempre le stesse previsioni che sono già pubblicati fino al giorno fino al 9 gennaio per quella ridicola in fanno il ponte fino al 9 gennaio ok ok in pausa e rimangono sempre quelli quelli del giornale l'otto mio sto parlando ok va bene e niente questi sono quelli che sono usciti con i miei calcoli speriamo che che porta bene cosa vuol dire avete visto anche il sol su milioni dei abbiamo fatto altre due ancora e poi vediamo se oggi pomeriggio riesco a fare un altro video per il milioni dei ok perché non sono ancora pronte il lotto si è pronto adesso lo pubblico basta e grazie sempre del vostro commento e grazie dei vostri saluti che mi salutate e io leggo tutto e vuole dire qualcosa ma non mi viene in mente adesso non mi viene in mente speriamo che state bene e tanti sono ammalati con questa influenza auguro a tutti buone guarigioni e speriamo bene ok va bene dai ragazzi un gran saluto tra poco preparo anche l'otto dalle giocare un ambo su su Bari Napoli nazionali ok tra poco lo trovate nel canale youtube anche sui gruppi buona giornata a tutti non mi viene in mente